Il ciclo di Krebs prende il nome dal suo scopritore, Hans Krebs, che nel 1937 ricevette il premio Nobel per questa scoperta. Prima di entrare nel ciclo di Krebs, ricordiamo che il piruvato, il prodotto finale della glicolisi, viene modificato. Perde il suo gruppo carbossilico per diventare un gruppo acetile. Come residui si formano una molecola di anidride carbonica e una molecola di NADH2. Il gruppo acetile si lega a un'altra molecola chiamata coenzima A.